Voglia di ferie e vacanze e i padovani si preparano a partire. Secondo i dati rilevati dall'Osservatorio Economico Confesercenti del Veneto Centrale, in questi primi giorni di agosto la maggior parte degli intervistati padovani deve ancora andare in vacanza. Parliamo del 51,7%. Agosto rimane il mese preferito con il 53,1% degli intervistati che sceglie il mare. L'Italia ha la meta preferita, in particolare il centro-nord con il 42,9%. Il 28,6% ha scelto il Veneto, mentre il restante ha optato per sud e isole. Per quanto riguarda le prenotazioni, il 57,8% del campione ha già prenotato un alloggio, mentre gli altri probabilmente sceglieranno soluzioni last minute. Padovani tecnologici, il modo di prenotare più utilizzato, è l'online preferito dal 51% degli intervistati. Circa il 12,2% sarà ospite di amici. Il 10,2% ha organizzato invece il viaggio con l'aiuto di un'agenzia. I padovani che andranno in vacanza spenderanno in media 500 euro a persona per una vacanza breve e poco meno di 1000 euro per i viaggi più lunghi.